L'invito che vi rivolgo non è solo a partecipare alle primarie del PD per sceglierci il prossimo segretario, il prossimo leader, no no, è di cominciare una storia politica insieme. Il 3 di marzo il PD riparte e riparte non solo la costruzione dell'alternativa, dell'opposizione, un progetto politico nuovo che metta da parte la propaganda insopportabile, le finte promesse, la continua retorica che purtroppo si alterna di tempo in tempo, ma rimette al centro i bisogni delle persone, soprattutto dei più giovani, soprattutto dei più deboli, soprattutto di chi la voce non ce l'ha e allora diamogliela noi la voce a chi non ce l'ha e diamogliela insieme. Il 3 di marzo non sia solo la grande festa della democrazia, ma la festa della politica, dell'impegno comune e della passione che andiamo a condividere. Vi aspetto nei gazebo, nei circoli del PD per tutta la giornata e mi raccomando può partecipare anche chi la politica oggi non la fa, la guarda da lontano, ma ha voglia di tirarsi su le maniche e quindi che sia la nostra festa dell'impegno comune. Ci vediamo il 3 di marzo. Preparati a partecipare. Domenica 3 marzo. Primarie PD 2019. La parola alla democrazia.